Ciao fans, è martedì pomeriggio, ho preso mezza giornata di ferie, adesso mi cambierò perché sono in canotta e non si può andare in moto in canotta, poi scenderò in garage, prenderò la moto e andrò a Renate da Supremacy Motorcycle. Sto portando la moto là per fare qualche lavoretto in preparazione delle vacanze estive, andremo a montare le borse. Per montare le borse della SV Motec dovremo spostare le frecce sul portatarga, cosa che comunque già volevo fare perché lì non mi piacciono. Poi cambieranno anche le gomme, ho preso le Metzeler M9RR solo per la Sardegna perché adesso sono delle pirelli ma non è che proprio mi convincono e poi ho paura di rimanere sulle tele mentre sono là, quindi monterò le gomme nuove prima di partire e poi inizieremo a mettere giù i progetti per quest'inverno quando cercheremo di fare una nuova versione della 09 ancora più unica diciamo. Detto questo mi cambio e vado in garage e ci vediamo direttamente a Renate quando starò per arrivare da Supremacy Motorcycle. Grazie a tutti. 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 Al prossimo episodio. Grazie a tutti. Ciao a tutti. Bene fans, sono appena uscito dalla Valassina, sono arrivato praticamente a Renate che è diciamo tra Lecco e Milano, in Brianza per metterla giù un po' alla larga Comunque fa un caldo assurdo, in certi punti in Valassina ha segnato 37 Infatti sono lavato, mi sono portato il cambio perché so già che poi mi dovrò cambiare Allora fans, dalla strada non si vede il posto perché in realtà è un capannone in questa via qua Quindi una volta che girate giù, cioè non ve lo trovate subito, ma è dopo la curva Quindi il navigatore in realtà vi dice che siete arrivati quando ancora non siete arrivati Perché il posto è esattamente qua dietro Bene, siamo arrivati, adesso prendo l'iPhone Ciao, tutto bene? Fa un po' caldino, sì infatti c'erano 37 gradi e ho portato il cambio perché Ciao fans, sono arrivato, ho portato dentro la moto Oggi è martedì pomeriggio, gliela lascio qua mercoledì, giovedì, venerdì per fare i lavori in modo tale che li facciano con calma Poi tanto sinceramente fa un po' caldino per andare in ufficio in moto Cioè arrivo che sono già lavato e quindi gliela lascio più che volentieri per prepararla per la Sardegna Loro sono molto molto bravi nelle customizzazioni Quindi se avete in mente un progetto di qualcosa da fare Venite qua, ne parlate con loro e sicuramente vi aiuteranno a tirar fuori una moto che poi diventa veramente un pezzo unico e una bomba Adesso entriamo e vi faccio vedere qualcosa dell'officina Poi aspettiamo l'una che mi venga a prendere e andiamo a casa e ci rivedremo direttamente tra 4 giorni quando verremo a recuperarla Poi aspettiamo l'unico Bene fans, è arrivata l'una a recuperarmi col bollino Grazie Guidi tu per favore Farò sto sacrificio Sì in realtà che poi è casa, dobbiamo andare a fare la spesa al supermercato quindi non è che ci faccio chissà che a fare guidare io Vabbè comunque ci rivediamo tra 4 giorni che veniamo a prendere la moto finita Ciao fans Ciao fans E adesso scendiamo dalla macchina e entriamo in un'officina E basta Poi dopo iniziamo il video vero e proprio in cui vi spieghiamo cosa è stato fatto sulla moto e ve lo facciamo spiegare anche da Lorenzo che non ha fatto lui il lavoro, l'ha fatto Andrea Eh sì perché Lorenzo era in vacanza Cioè adesso è qua a prendersi i meriti ma in realtà il lavoro l'ha fatto Andrea Ah ok, dai entriamo Dai Luna, introduci il video No, io dico ciao fans Ciao fans, come si sente? Ah non so di sì, ho messo il microfono Ok, ciao fans Ok, guardate niente praticamente Eh no sì, avviciniamoci che non so se sì sì Assolutamente Vai racconta cosa abbiamo fatto perché abbiamo spostato le frecce Sì, abbiamo cambiato le gomme Dunque, ero solo la mia contattata, ci siamo conosciuti in concomitanza con il nostro amico Dario Ci siamo conosciuti da Dario che è quello che ha fatto le serie Che è un mio carissimo amico Coincidenze Pure coincidenza e gli fa guarda che se devi fare dei lavori vai da Lorenzo Che è molto bravo Poi Lorenzo ha iniziato a parlare e mi ha convinto Non mi aspettavo tanto riconoscimento Ad essere sincero io non ne parlo Sono contento di questa cosa No però le cose che raccontavi lì si vedeva che ne sapevo Mi faccio prendere, mettiamola così È un mio difetto Parto molto spinto ogni volta Soprattutto quando si tratta di moto Per cui ho un brutto pallino, una brutta deformazione professionale Quindi alla fine c'è stato in mezzo un cambio gomme Perchè comunque le strade della Sardegna sono fantastiche Ma l'asfalto Pare che sia molto abrasivo È estremamente abrasivo Ho visto gente, ho visto colleghi e amici del mio motoclub Far fuori un treno di BT212 della Dallopin 2500-3000 km forse Polverizzate Quindi ho fatto bene a camminarle Assolutamente sì Un treno di gomme nuovo è una scelta migliore E... Ma no, sono nuove anche le due C'erano su mille chilometri forse No, no Le Bridgestone BT016 Ok, no, quelle durano l'infinità Quelle non belle, figurati Poi borse Contestualmente una piccola modifica estetica Che è stata l'abbassamento delle frecce Che già volevano fare In più con le borse Esatto C'era il suo kit che era... Esatto Era lì Bruttissimo Non era apposticcio Le mettevano più in fuori Più larghe Sì, esatto Orribili E... C'era una staffa nel kit Delle borse in realtà Esatto Che le spostava più in fuori Più indietro Cioè ancora più sporgente In pratica era una specie di proboscide con le frecce Esatto A un certo punto considerato che la 09 comunque ha una linea molto affilata Molto stretta E' anche un peccato aggiungere elementi estetici pesanti sul posteriore E' giusto abbassare diciamo tutto quello che è sporgente Ecco mettiamola così Quindi abbiamo optato per un kit di abbassamento di frecce della Givi Che è stato adattato sul Porta Targa Aftermarket Che ha già dentro tutti i cablaggi anche Che è completo di tutti i cablaggi Ma quanto è stato difficile So che l'ha fatto Andrea Esatto Però ti ha detto sia stato complicato Perché è una modifica che vogliono fare in tantissima questa Dunque di per sé non è complicato Bisogna avere una certa tendenzia Ma comunque alla fine ridendo scherzando Sono andati via per fare un lavoro fatto bene Reinguainando tutto Fascettando tutto Rennendo tutto coerente con i passaggi dei cavi della moto Circa 5 ore di lavoro Quindi per fare tutto però riguardato e ricontrollato Cioè non è una cosa che ti metti di 10 minuti No non è da 10 minuti Si consiglia sempre di Se si ha di avere il manuale davanti di officina Le istruzioni sono abbastanza chiare Ma comunque si richiede sempre una certa perizia E soprattutto prima di tutto scollegate la batteria Perché ho visto gente che faceva cose senza Poi dopo c'è la spia motore tra l'altro E' da tantissima gente Poi con le robe c'è la spia motore Si ma a parte la spia motore Anche casi di gente che Pasticcia con l'impianto elettrico Con la batteria collegata Che non è mai una grande idea Ho provato a vedere gente che riusciva a fare contatto Piantando cacciaviti Riappicandoli A fare contatto con il polio Tutto su un circuito Prendersi sposto O far saltare scendille Comunque la moto è pronta per il viaggio Sono state montate due borse SW-Motec Da venturidini in uno espandibili Belle Soprattutto perché Sono quelle meno ingombranti Sono le meno ingombranti In assoluto E il kit SW tra l'altro E' uno tra i più compatti in commercio Perché a differenza di Givi e di altri produttori SW-Motec ha un sistema di aggancio Basato su due tubolari laterali Che possono essere sfilati E praticamente una volta sfilati Rimane soltanto la staffa di fissaggio Con il suo sistema Il suo aggancio di plastica Che comunque è piccolino Occupa poco spazio Non rovinare la linea della moto E soprattutto Non bisogna stare lì le ore A montare e smontare Poi soprattutto quelle della concorrenza Ha tutta l'impalcatura laterale Che fa sporgere le borse Molto più della fine del manubrio Esatto Quindi se non avete l'occhio Poi passate tra le macchine C'è anche il rischio che prendete dentro Invece queste qua rimangono a filo Con il manubrio Assolutamente L'unica cosa che si vede Alla fine della rimozione delle borse E' una fettuccia che le tiene fissate E la famosa staffa Che sta dietro tra l'altro Le pedane del passeggero Quindi Quindi ci rivediamo tra qualche mese Per fare il progetto nuovo Per l'anno prossimo Sì Sì Assolutamente E magari anche per la tua Prossima Prossima tra un po' Sì assolutamente Facciamo vedere Con piacere Con piacere Cosa rimane attaccato Praticamente Praticamente Questo è il sistema di aggancio Come vedete E' molto semplice C'è una fettuccia Con una clip di plastica Tutto il sistema di aggancio E' nascosto dietro La pedalina del passeggero Quindi risulta anche Abbastanza Diciamo elegante Una volta che viene sganciata La fettuccia di plastica Da una parte E dall'altra Le borse possono essere Semplicemente Alzate E sfilate Che voi dite Sì È bello Però è sporgente Ma c'è il trucco Premendo questo Prossante Intera in telaiatura Viene via E quindi praticamente Ciò che rimane E' semplicemente La fettucina di plastica E il suo sistema Di fissaggio Che comunque Come vedete Preserva perfettamente La linea della moto E soprattutto È di una comodità Esatto Cioè anche quando arrivi in nave Tiri giuste due robe qua Assolutamente Sei sicuro che nessuno ti ruba niente E ci metti un minuto a farlo Ci metti un minuto Non ti rubano niente Le borse si sfilano in un secondo Si appoggiano sopra Alla sella Ci dobbiamo di venire Infilato semplicemente Nella sua sede Basta Scatta Si appoggiano Scatta Così Prima una Poi l'altra Basta agganciare le clip Esatto E già così Comunque non vanno da nessuna parte Non vanno da nessunissima parte Non vanno da nessunissima parte Ma per essere chiaramente Ancora più sicuri Flip di sicurezza E così c'è anche posto per mettere la borsa sopra Esatto Assolutamente In più non sforgono Perché sono abbastanza compatte Sì infatti sì E' una cosa bella Oltre a essere chiaramente resistenti a benzina Solventi eccetera Da qua si vede molto bene che sono in linea Espandibili Esatto Non espandibili completamente Ma espandibili a ventaglio Che è una soluzione abbastanza intelligente Che permette di risparmiare spazio sui fianchi Per mettere Diciamo pieghe Ma comunque non si arriva a quelli Però Soprattutto quando viaggi Non so se è uscito dalla superbike Sei un po' nostalgico E devi E devi compensare Va bene E Più che altro secondo me Chi non è abituato a viaggiare Non ha l'occhio Della larghezza E quindi mettendo delle cose che sporgono tanto A rischio di prendere dentro Comunque come ho detto Si tratta di ingombri comunque minimi Poi abbiamo spostato le frecce La cosa comoda Chiaramente era un lavoro che secondo me Era intelligente fare E' stato lo spostamento delle frecce Sulla Sulla parte inferiore Che già volevamo farlo Cioè già volevo farlo E ne abbiamo approfittato Anche perché questo Aiuta ulteriormente Al montaggio E allo smontaggio delle borse E quindi comunque Nei vari movimenti Molla, smolla Gira eccetera Rischiavi di tirarle giù Sì Con questo sistema E ha più di una persona successa Sì Con quell'originale Yamaha successo E poi abbiamo messo i tappi qua Che chiudono i vecchi buchi delle frecce Esatto Che è decisamente molto più bella da vedere Senza nessuno E appunto la parte comoda E appunto prendendo le borse E sfilandole da dietro Automaticamente Non si va a toccare nulla Perché la freccia è nella parte bassa Ha il suo bel sistema di ritenuta Che è la staffa della Givi Viata apposta Non apposta apposta Nel senso che questa In teoria era fatto per la targa originale Questa è stata studiata per il plasticone originale Questo essendo il portatarga Sportivo Ok, perfetto Ma è stato comunque adattato senza problemi Viene fornito con I fori sono quelli dell'impronta originale Quindi monta sulle frecce originali Quindi al massimo bisogna comprare l'adattatore Per poter montare su freccia led di varia natura eccetera Quindi direi che dal punto di vista di viaggi e gomme e controllo Direi che siamo perfettamente a posto e liberi di andare Quindi vi abbiamo fatto vedere come preparare la moto per le vacanze Quella di Luna invece non la prepariamo Perché sta già pensando a cosa sbolognarne le mie borse Ci vediamo tra qualche mese sempre da Lorenzo E vediamo che progetto tiriamo fuori per far qualcosa di ancora più particolare Ciao ragazzi Ciao fans Ciao fans Una storia senza filtri Un filtri senza storia No, è una storia senza filtri Sì, soprattutto io senza i glitter Perché non è che proprio mi donano molto quei glitter Comunque ho visto un po' di domande nel post Che chiedevano dove ho ordinato le borse No, in realtà non ho ordinato niente Ho fatto fare tutto all'officina In modo tale che io l'unica cosa che ho fatto è stato strisciare il banco Ma basta, è vero Perché comunque tanto i prezzi che c'erano erano quelli E tanto valeva far fare tutto direttamente all'officina Così io non ho dovuto pensare a niente Ho fatto tutto loro Gli ho portato la moto Hanno ordinato le cose Le hanno montate E io sono solo andato a portare la moto A riprenderla e a fare il video con loro È un po' come quando o vai in agenzia o fai tutto il shopping Esatto È comodo andare in agenzia Sì E quindi se avete bisogno di fare qualcosa Andate da Supremacy Vi lascio qua il tag dell'officina Andate da loro Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima